Sì, sì, abbiamo riuscito a trovarla, poi me l'ha fatta vedere e ha detto se ti piace la blocchiamo, l'ho bloccata tramite telefono. Siamo venuti qua convinti di vedere la casa e ci hai dato una notizia nefasta, l'aveva già data. L'aveva già data, il marito ha detto che mia moglie non sapeva niente e l'ho data io a mia cognata. E quindi è sfumata, noi abbiamo provato a chiamare tra agenzie privati tutti quelli che ci sono Tino, fatti davanti mentre scorrevamo su internet ma per un mese non c'è possibilità. Noi eravamo venuti qui, Rosa, Enzo, tutti contenti perché... Abbiamo trovato, mano male abbiamo trovato... Meno male che abbiamo trovato, perché guardate qua, un imprenditore barese, uno che conosce bene il problema del gioco d'azzardo, si è commosso e ci ha dato 800 euro che era la cifra per pagare questa abitazione. E' solo che adesso manca l'abitazione, adesso abbiamo i soldi ma manca l'abitazione. E' quello il problema. Tra l'altro Cosimo ha bisogno di stare al calduccio perché non sta molto bene. E quindi facciamo appello, cioè se avete un mese, non serve di più, un solo mese, abbiamo 800 euro per pagare l'affitto di una casa ma anche un bilocali, con un angolo cottura e una lavatrice, questo è quello che serve, giusto un mese dal prima possibile perché voi questa notte è l'ultima che state nel bed and breakfast. Sì, sì, è l'ultima. Vabbè, un bed and breakfast si trova, non è un problema. Il problema è capire quanto invece possa essere prolungata la permanenza. Sì. A giusta una van, roses, guasta dall'alto. A giusti di là e si rompe di là. E bisogna mantenere la calma. Abbiamo trovato anche il gatto nero. Come il gatto nero? Vabbè, superstiziosa, se fai la preghiera, la preghiera le batte tutte le superstizioni. No, è un periodo nero, un periodo nero, un periodo nero. Non so. Però non perdete la fiducia. Eh, lo so. Non perdete la fiducia. Adesso, sotto il video, su YouTube, su Facebook, su Instagram, redazione Quinto Potere, chiocciolagmail.com, scriveteci. Se avete una casetta, ma anche un monolocale con tre letti, ma che abbia una cucina e abbia una lavatrice, col bagno ovviamente, fatecelo sapere, perché così Rosens lo possono vedere e nel caso abbiamo anche 800 euro per pagare questo affitto. Anche perché... La famosissima casetta in Canada. La famosissima casetta in Canada ci vorrebbe, ma il Canada è già troppo lontano, no? È già troppo lontano. Eh, stiamo cercando una soluzione migliore, più adeguata, anche per le condizioni di Cosimo e per questo nell'Interland barese, nello stretto Interland barese sarebbe l'ideale, se non proprio su Bari città, così tu puoi andare a lavorare senza dover fare grosse percorrenze. Insomma, Tino è un manicomio. Dateci una mano, date la mano a Rosa e a Denso e a Cosimo, perché serve un mese, un mese con una casa arredata, pagata, per poterli ospitare. Tino, questo va messo subito, eh? Sì, sì. Per ora è quasi tutto. Cotto e mangiate. Eh, cotto e mangiate, quasi tutto. Corri, corri. Vai, corre, veloce, vai a trovare la casa, Tino, dai, più veloce. Corri. 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 Grazie.